Allo stadio, capo Iprati, il Pineto pareggia in rimonta tra le polemiche per 1-1 contro i padroni di casa del Fiuggi. Dopo un primo tempo a reti bianche, nella ripresa del Duca, sblocca la contesa. I biancazzuri non si arrendono e pareggiano dal dischetto con Romano. Nel finale, arroventato dalle polemiche, non succede più nulla. Calcio d'inizio per i padroni di casa. La squadra di Incocciati parte forte, Forgione conclude, Mercorelli si distende e concede il corner. Risponde Mastrippolito per gli ospiti, sguscinare il numero 27, prende la mira, Novi blocca. Il match è equilibrato e a bulico di emozioni. Al quarantesimo, Bertolo pennella al centro, Novi rischia la frittata con Pierpaoli appostato a porta spalancata. La risposta laziale porta la firma del neoentrato Proia, che si spegne di poco fuori. Nel finale del Duca, su punizione, trova una risposta incerta di Mercorelli. Nella respinta si allaccia con Gaetani e per il fischietto piemontese ci sono gli estremi per concedere la massima punizione. Dal dischetto Fall si fa ipnotizzare dal portiere biancazzurro, che salva il risultato. Nella ripresa il Pineto entra deciso, Mininkleri tiro cross smanacciato sulla linea dal portiere avversario. Al sessantacinquesimo si sblocca il match del Duca. Svetta, pallone che finisce in fondo al sacco, in modo rocambolesco, tra le proteste adriatiche. Sulle ali dell'entusiasmo i palloni di casa vogliono raddoppiare. Proia su punizione trova la risposta di Mercorelli. Lo stesso numero uno abruzzese respinge la conclusione dal cuore dell'area adriatica. A un avversario alla mezz'ora, episodio da Moviola, Bugaro conclude in sorge l'undici di mister Pomante, che chiede un tocco malandrino di mani in area. A dieci dal termine, episodio chiave per la squadra del presidente Brocco Cercelluti. Quadagna il secondo calcio di rigore di giornata dal dischetto romano glaciale. Non sbaglia, impatta il match. Al novantesimo, altro episodio degno del VAR. Minincredi cade in area a seguito di un contatto. Badeng Tose della sezione di Cuneo non assegna la massima punizione sul ribaltamento di fronte. Fa il tiro cross che non trova nessun compagno in area. Nell'infuocato recupera un buba assist delizioso per Bugaro, che trova una grandissima risposta di Novi, che salva i suoi. Non succede più nulla. Fiuggi e Pineto si dividono la posta in palio tra le polemiche. Sì, però è normale le proteste che fanno parte del gioco. L'errore ci sta, dispiace che ultimamente siamo un po' sfortunati, però io oggi sono contento della prestazione dei ragazzi, perché è stata una prestazione importante, come ho detto prima. Quando è una squadra forte, siamo stati bravi nel reagire al loro vantaggio. Poi una volta pareggiato, sinceramente, abbiamo cercato in tutti i modi di vincere la partita, perché sinceramente il pareggio non ci bastava. Abbiamo rischiato anche di fare gol con Gianluca, e poi è normale il rigore di Simone, un po' ci ha penalizzato. Questa è una routine che ormai è un mese e mezzo che sappiamo di dover affrontare, e sappiamo che un mercoledì dobbiamo giocare adesso con una squadra altrettanto forte, e abbiamo poco tempo per recuperare, però ci sta. Adesso questo è un campionato, lo sappiamo tutti, un campionato anomalo. Se pensiamo che stiamo al 16 di maggio, e al Pineto gli mancano ancora otto partite, mi fa capire che campionato è questo. Di solito il 16 maggio siamo tutti in vacanza, ma invece adesso noi dobbiamo giocare ancora altrettanto otto partite, tutte ravvicinate contro squadre che, come noi, hanno altre partite da recuperare. No, prevalentemente noi, perché poi abbiamo, come al solito, regalato su quella situazione di gioco del ragazzo, che ha fatto fallo, calcio di vigore, perché fino a quel punto, obiettivamente, la mia squadra, insomma, è sembrata, almeno per quello che riguarda il mio giudizio, attenta, a volte, molte volte superiore al Pineto, sia nell'impostazione del gioco, in fase di possesso e in fase di non possesso, e però non siamo stati bravi a chiudere, soprattutto quando nel secondo tempo abbiamo avuto diverse occasioni per chiudere la partita. È vero, abbiamo rischiato anche di perderla, perché, a parte quella di parata, ma abbiamo rischiato anche di subire un altro rigore, però io credo che, insomma, è stato bravo anche l'arbitro a non farsi, tra virgolette, ingannare, perché lì l'attaccante è stato molto furbo, ha cercato il contatto, forse lo ha trovato, però, insomma, il dato di fatto è che non posso dire nulla ai miei ragazzi, perché, come avete potuto vedere, insomma, la squadra ha fatto del tutto per portare a casa i tre punti.